Ok, benvenuti. Ho saltato un po' di passaggi giusto per evitare di fare i video troppo lunghi. Comunque ho spostato la posizione della scala a chiocciola, l'ho messa praticamente al primo piano in questa stanza, in modo tale che poi andando piano di sopra esce praticamente così. Poi ho fatto che fare una stanza intera, in modo tale da poter mettere tutto, anche perché ho visto che metterlo a metà, cioè cancellare un pavimento, implica qualche problemuccio con Blender o simili. E quindi per il momento evitiamo di dover passare da Blender per fare qualche cosa. Anche se magari qualche cosa bisognerà comunque farla. Nel senso che ho visto che esportando questo oggetto in OBJ esce come metri anziché come centimetri, quindi diventa 100 volte più grande di quello che dovrebbe, ma al limite poi lo si può ridurre quando si arriva nei mondi virtuali. Comunque, altre cose che ho fatto qua, in realtà ho fatto due stanze, quindi ho fatto una stanza, cioè due pavimenti, uno di qua e uno di qua, in modo tale da potergli dare due texture di pavimenti diversi. Vedete che la scala buca da sola senza problemi. Qui gli ho messo, praticamente cliccando sulla stanza e facendo doppio clic, compare la possibilità di mettergli una texture, e gli ho messo la texture di uno di questi pavimenti. Gli ho solo ampliato la scala, perché sennò veniva tutto di default, veniva una cosa di questo tipo, che non era un granché. Quindi la scala, in generale, quando ho messo le texture, l'ho messa a 500, che sembra molto più adatta. Vedete che viene un pavimento quasi credibile, quindi il piano di sopra ha dei quadri che ho semplicemente copiato e incollato, quindi ho preso l'uomo vetroviano, ho fatto copia e poi l'ho incollato varie volte, e soprattutto poi ho dato dei colori alle varie stanze, quindi al piano terreno, ho cliccato sulla stanza che era tutta intera, gli ho detto la texture erba in questo caso, texture erba sempre a 500, e poi gli ho detto che tutte le pareti invece hanno il colore viola, quindi questo è un modo ancora più veloce per dare il colore uguale a una stanza, se non si può mettere anche una texture, e quindi l'ho fatto sia per il piano terreno che per il primo piano. Ok, allora a questo punto, tanto per essere molto veloci, facciamo l'export di questo oggetto, quindi facciamo vista 3D, facciamo export, allora innanzitutto dovremo salvarcela, quindi facciamo file, salva con nome, lo metto sotto mostra, quindi facciamo mostra, e quindi diventa suite home 3D, e salviamo in questo formato, ma soprattutto facciamo vista esporto in formato obj, e qui esportiamo il mostra.bj sotto una cartella nuova, mi raccomando io ho creato una cartella nuova, e sopra questo facciamo mostra.bj, facendo salva lui salverà, adesso c'è già il punto obj, lo sostituisco, e quindi lui a questo punto, dentro questa cartella, ci ha salvato praticamente le varie texture che noi usiamo. Quindi c'è il mostra.sh 3D, che è il nostro salvataggio di suite home 3D. Poi abbiamo le varie texture, quindi c'è una texture che è l'uomo vetroviano, c'è un'altra texture che è la texture del pavimento di sotto, e c'è un'altra texture che è questa specie di linoleum di sopra. In più c'è un punto mtl e c'è un punto obj. Ora, l'export obj vuol dire esportare questi tre formalismi. Quindi se volete andare in blender, non è obbligatorio, ma ad esempio se volete andare su open sim dovete farlo, perché dovete convertire il formato in un formato riconosciuto. Quindi un pochino di blender purtroppo dobbiamo averlo. Quindi adesso facciamo un nuovo, quindi partiamo da zero, cancelliamo il cubo, e facciamo un file import da blender del formato wavefront, andiamo sotto documents, abbiamo mostra, e diciamo mostra.obj. Facendo import vedete che abbiamo la nostra casetta che è importata in questo modo è un po' strambo, vedete che è un po' tanto strambo, perché è cento volte più grande di quello che dovrebbe. Ecco perché lo fa vedere in questo modo strano. Quindi per correggere questa cosa, se volete farlo in blender, potete andare qua sulla destra, dove c'è scritto mostra, gli dite di select hierarchy, ampliate, e quindi avete selezionato praticamente tutto l'oggettone, e gli fate un bel scala, quindi scaliamo tutte, S di punto 0,0,1 invio, e quindi noi abbiamo praticamente ridotto le dimensioni normali, quindi cioè, beh, normali, poi lo vedete voi se è troppo poco o troppo o meno, e vedete che qui abbiamo praticamente la nostra stanza, vedete che mancano dei pezzettini in realtà, perché probabilmente dobbiamo degli di fare il soffitto, ma comunque nel complesso ce l'abbiamo. Ora qui tra l'altro, se vogliamo navigare questo oggetto in blender, per vedere come viene, e tra l'altro se vogliamo vedere anche i quadri, dobbiamo abilitare questa opzione, e vedete che vediamo effettivamente tutti i quadri, tutti i colori, come devono essere, tra l'altro è anche qua, ma è un po' più bruttino, quindi consiglio questo. Altre cose notevoli, dunque questa cosa qua, se la selezioniamo tutta, select hierarchy, e poi gli diciamo quanti statistiche, vediamo che abbiamo 2000 vertici, quindi è leggerissima questa mostra, è veramente molto leggera, e cos'altro dire, se volete a questo punto, diciamo navigare, allora qui c'è un tasto di default, che è un po' complicato per la navigazione, io preferisco coprire in blender 2.7, in cui praticamente, sulle preferences, andate su kmap, cercate navigation, walk fly, e qui mettete, cliccate qua, premete un tasto, e il default per navigare, che c'era una volta, era shift F, che io rimetterei, shift F, quindi a questo punto, se fate shift F, vedete che il cursore diventa, questa specie di mirino, potete usare W, e potete navigare, per vedere come verrebbe, la vostra scena, che poi andrete a importare, nei mondi virtuali, quindi scendiamo, al piano di sotto, o insomma quello che è, se no facciamo escape, torniamo qua, quindi vi ho anche insegnato, questo trucchetto di blender, per, poi se c'è qualcosa di sbagliato, in blender potete ancora correggere, vedete qui ci sono dei difetti, e sarebbe meglio risolvere, questi difetti in, in suite 3D, se a questo punto, questa mostra, la vorrete esportare in OpenSim, fate file, export collada, quindi facciamo export collada, e poi sotto documents, mostra, quindi portiamo in collada qua, e facciamo selection only, e direi che, copiamo tutte le texture, insomma eccetera, diamo un nome, quindi questo sarebbe, mostra OpenSim, in questo caso, export collada, e noi a questo punto, dentro quella cartella lì, abbiamo anche, dovremmo avere, il mostra OpenSim.dae, vedete che è un pochino più grosso, e questo adesso, nel prossimo video, la proviamo a vedere, come si importa in OpenSim, grazie.